E niente, come spesso capita, il primo punto che ho scavato stamattina, non c'era oro, ho fatto piombo, ferro, ma di oro. Succede, per capire un po' come è fiume. Poi ho provato a salire a monte, c'è un punto massaggio davvero troppo impegnativo su uno sbarramento di una diga, sono solo, non vorrei fare cazzate, quindi mi mantengo sul prudente e sono venuto verso la...